ecco ecco fermati ferma e tu sei come ti chiami Samir Khairana come Samir Khairana e che cosa fai qua? faccio il match fai il match ma adesso sì in questo momento cosa stai facendo? Sto facendo un po' di vuoto allora fallo dai continui quanti match hai? il mio debutto è il debutto? Marco ciao 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 Marco allora Erison come va Erison? tutto bene tutto bene e il ragazzo Erison è pronto la preparazione atletica è andata come ci aspettavamo quella tecnica ancora qualche sfumatura da controllare però direi che per la giornata di oggi siamo preparati bene grande grande Marco a dopo oggi combatterà il mio atleta Fiorentino Alex vediamo un po' Alex tu sei Alex Fiorentino? esatto come va Alex hai dormito? bene lucidissimo sei teso fatto colazione alla grande due ragazzi vero? 60 kg tabacco alcheo è un 81 kg Riccardo Di Maria tutti due elite Marco come va? come va Marco? bene bene sono pronto molto cordiali molto persona truccata professionista una persona per bene tu chi sei? Amadio Amadio poi? guarda Amadio Leonardo sei emozionato? normale tranquillo per me è un divertimento è un divertimento va bene il tuo maestro? il maestro è Stalanco è cioccosso oggi Alessandro ah Alessandro si va bene ciao come vai ragazzo bene? bene bene ragazzo tranquillo merita si è allenato adesso stasera speriamo di fare una poi come vada l'importante è non prenderli no? sì certo quello sì ciao fai un bel ciao 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 con il gelatino dai Ale allora Ale allora adesso provi proprio le magnocinale ma lì è il bello è il bello è il bello è il bello della diretta ti sono venuto a trovare tu sei? Cristian Casadei Cristian Casadei della società? box centrale box centrale sei? Nicola Pascucci Nicola Pascucci invece tu tu sei carico no? sì sì sempre adesso siete seduti rilassati siamo stati chiamati ecco in estremis all'ultimo dall'amico Dino dall'amico Mini da Biagio siamo venuti qua adesso con un 63 kg 63 kg e mezzo sec oggi fa l'esordio con noi con l'accademy viene già da il match che aveva disputato con la palestra di Andrea del caro amico Gabanelli adesso si è trasferito da noi per questioni logistiche e oggi vediamo come si comporta no? ciao 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 ciao